La narrazione sbagliata degli scontri stradali, il valore delle parole e il libro che Stefano Guarnieri, che a causa di un incidente stradale ha perso il figlio Lorenzo, assieme ad altri autori ha scritto per raccontare di come molto spesso le cronache usano una terminologia sbagliata. Macchina impazzita è un esempio, si dà valore all'oggetto e non all'uomo, forme di comunicazione pericolose per Guarnieri. Esiste una narrazione ormai da tempo che fa sì che si disimpegna l'uomo, nell'uomo sembra che non c'entri, quindi sembra che sia sempre colpa dell'auto impazzita, sia colpa della strada killer, del cordolo eccetera. Invece in realtà sappiamo che nel 95% dei casi è dovuto ai nostri comportamenti, quindi noi dobbiamo ritornare a raccontare le cose come stanno, cioè raccontare che si muore sulla strada perché c'è eccesso di velocità, perché ci si distrae, perché si beve e si guida e quindi in qualche modo raccontare quella che è la verità di fatti con grande rispetto delle vittime. Stefano Guarnieri è vicepresidente dell'Associazione Lorenzo Guarnieri, da sempre si batte per temi come l'omicidio stradale, assieme anche ad altre associazioni locali, come quella di mamma Elena Panepucci, che ha perso all'Aquila il suo Giuseppe, anche lui vittima di omicidio stradale. Gli inasprimenti, le norme ci sono, ma non bastano. C'è tantissimo da fare perché le norme sono importanti, quindi siamo soddisfatti di quello che è stato fatto, perché comunque dà un valore, in questo caso qui, all'importanza anche alla vittima, insomma del fatto che è una cosa seria, è una cosa importante e ha sicuramente un effetto anche deterrente. Però è un tema complesso che bisogna affrontare attraverso altri mezzi anche, quindi gli inglesi parlano di tre, quindi bisogna lavorare sull'educazione, quindi senza dubbio. Loro dicono enforcement, che vuol dire controlli, cioè quindi bisogna aumentare i controlli e allo stesso tempo bisogna lavorare sulle infrastrutture per proteggerci. Quindi occorre fare tutte queste cose e farle insieme in maniera pianificata. Quindi è un tema complesso, copiando anche dagli altri, perché se noi copiamo il Nord Europa, nel Nord Europa muoiono la metà delle persone che muoiono in Italia. In Europa noi siamo alla diciannovesima posizione, quindi dobbiamo veramente migliorare tantissimo. E possiamo farlo.